Caldo torido e per gli animali del bioparco a Roma ci sono ghiaccioli di frutta congelati a base di mele albicocche e cocomero accompagnati da cane di bamburi piene di yogurt e ghiaccioloni a base di frutta. I tre orsi bruni, Mary, i due fratelli maschi Gianni e Sam, ogni giorno trovano refrigerio immergendosi nella grande piscina presente nella loro area. D'estate al bioparco in un giorno gli animali consumano 300 kg tra verdure e ortaggi, 150 kg di frutta di stagione ed oltre 50 balle di fieno ed erba medica.